Si scioglieranno nei prossimi giorni, con le decisioni che intenderà adottare il Governo centrale, i nodi relativi ai luoghi e alle situazioni in cui l'utilizzo del Green Pass diventerà obbligatorio sull'intero territorio nazionale. Nelle ultime settimane sono state diverse le ipotesi ventilate per le situazioni che richiederebbero l'adozione necessaria della certificazione verde, a partire da eventi o luoghi come concerti e stadi in cui la verifica del distanziamento e dei controlli risulta più complessa e la presenza di assembramenti più concreta, fino alle discussioni relative all'accesso ai pubblici esercizi come bar e ristoranti. Da confermare anche l'ipotesi di cambiamento per l'ottenimento del Green Pass, che potrebbe essere rilasciato non più dopo la prima somministrazione, ma a percorso vaccinale terminato. Sul tema si sono espresse diverse voci delle rappresentanze pesaresi, a partire dal sindaco Matteo Ricci che proprio questa mattina ha ricevuto la seconda dose di vaccino. Intanto diciamo che bisogna vaccinarsi perché il vaccino ha dimostrato che se le persone sono vaccinate non muoiono, si ricoverano pochissimo e sono davvero un numero bassissimo quelle che hanno la possibilità comunque di avere il virus con sintomi debolissimi. Il Green Pass può essere un incentivo a vaccinarsi per quelle persone che hanno atteso fino ad oggi ed è l'unico antidoto per non richiudere ristoranti, bar, hotel eccetera. Ovviamente bisogna ripartire, bisogna partire dalle attività dove è impossibile evitare il contatto fisico, anche per questo sono settimane che propongo il Green Pass anche per accedere almeno nei giorni più caldi nelle zone della Movida perché questo ci aiuterebbe anche a fare controlli e sarebbe un bel incentivo per i giovani che ancora non si sono vaccinati. La tutela dei pubblici esercizi è prerogativa fondamentale di Confcommercio. La vice direttrice della sezione pesarese ha infatti rimarcato l'esigenza di garantire continuità lavorativa per le attività come bar e ristoranti già duramente provate. È sicuramente un argomento dibattuto e molto delicato, un argomento che però deve diventare uno strumento per uscire dalla pandemia e non uno strumento per nascondere alcuni dei fallimenti tra cui elencandoli per essere ovviamente più chiari e precisa possibile, il fallimento nei controlli sulla Movida, quelli che noi da 18 mesi chiediamo per tenere le attività aperte, il fallimento della campagna vaccinale intesa come comunicazione perché come vediamo adesso c'è una carenza di persone che si prenotano per le vaccinazioni e soprattutto un fallimento nel momento in cui si autorizzano alcune manifestazioni, alcuni assembramenti gli ultimi di qualche giorno fa e poi si impone l'obbligo alle attività quali pubblici esercizi del Green Pass. Il Green Pass è uno strumento efficace, deve divenire uno strumento efficace se è erga omnes, se vale per tutti e per tutte le attività, non che qualche attività resti aperti e continui a fare quello che vuole, mentre le solite pubblici esercizi, teatri, musei, piscine e palestre debbano essere nuovamente indicate come attività che devono assumersi nuovi investimenti e nuovi obblighi. Fabrizio Liva, presidente degli albergatori pesaresi, oltre all'importanza del Green Pass per alcune situazioni, sottolinea la necessità di ampliare il fronte controlli per i turisti che decidono di viaggiare all'estero. Sicuramente per gli eventi è necessario, perché comunque alla fine, seppur controllando le sedute e controllando le presenze, effettivamente è un altro motivo di aggregazione e di assembramento. Ritengo che bisogna fare molta più attenzione per i turisti che vanno in vacanza all'estero quando rientrano in Italia, perché abbiamo visto che tutte le località che sono state straniere, quindi la Grecia, in parte la Spagna, che sono state più libertine di noi, hanno portato delle conseguenze pesantissime, ma alta, dove ci sono comunque studenti, ragazzi bloccati e sicuramente alcuni saranno passati e quindi magari dopo due giorni sono risultati positivi al Covid che era in Italia. Quindi misure più stringenti verso coloro che vanno in vacanza all'estero al momento del rientro.